a vedere se mi ascolta. Il tuo rapporto è buono, ti do 5-6. Qui Italia Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, per Italia Kilo 5, Yankee, Lima Yankee. Ma trovo vecchio, eh? Venuto benissimo. Il precedente proprietario veramente l'ha venuto veramente bene. Però gli anni c'è già. In anni 70 o in anni 80. A te, c'è ancora il cambio. Il Z4U visto il Quadexiere, capacita greca del greco.